Siamo a Bosa, sulla costa occidentale della Sardegna, in uno dei borghi più belli d'Italia. Sì, questa città è particolare perché è l'unica dell'isola ad essersi sviluppata sulla foccia di un fiume. Where are you from? Vengo dalla Svizzera, una città veramente calma. Due o tre giorni fa siamo andati al carnevale, era veramente bello. Siamo di Padova, ogni anno quando vengo ci vengo svolentieri a una tappa fissa. Il centro della Planargia è una delle città fluviali più romantiche e affascinanti d'Italia e da anni ha conquistato il cuore di tanti turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Buongiorno, vengo a visitare il chateau in Sardegna con il mio figlio, è molto bello. Impossibile non innamorarsi dei colori incantevoli delle case variopinte del centro storico con il dominante castello di Serravalle da cui si vedono, in uno splendido panorama, le sue meravigliose coste. Non solo storie e bellezze naturalistiche, ma questo borgo regala anche secolari tradizioni, cultura e arte, come la preziosa lavorazione orafa della filigrana e la particolare tecnica di ricamo del filè. I dati parlano chiaro, in questa stagione, dopo due anni di pandemia, c'è stata una vera e propria impennata di visitatori rispetto al 2021. I numeri, lo sappiamo, in Sardegna quest'anno la gente sta arrivando e Bosa nella testimonianza, visto e considerato che rispetto al 2021 sono quasi raddoppiate le presenze, mentre invece almeno nel mese di giugno, quello di luglio ancora non è completo, ma sono convinto che avremo almeno un 20-30% in più. Grazie